bene adesso ci colleghiamo con i mai al mondo ragazzi io non ho trovato niente tu fra niente io niente ho trovato tu fra niente ragazzi ma che state facendo vorrei ricordarvi che siamo in onda eh un attimo scusi è lì qua non c'è niente tu fra niente ma si può sapere che state cercando lì non riusciamo a trovare il canale di media terrona ma siete proprio dei mai al mondo le trasmissioni televisive di media terrona vengono trasmesse dall'emittente cantele 3 sul canale 114 del digitale terrestre adesso vi spiego io come si trova dai basta entrare nel menu principale del vostro decoder selezionare installazione andare su scansione canale la modalità di scansione deve essere naturalmente tramite canale bisogna assicurarsi che la banda di scansione sia UHF per quanto riguarda il canale bisogna selezionare il canale 27 si fa partire la ricerca dopodichè basta tornare al nostro televisore andare sul canale 114 cantele 3 e lì troveremo i programmi di media terrona oppure basta selezionare installazione e fare la scansione automatica e anche in questo modo possiamo arrivare al nostro canale 114 cantele 3 e trovare i programmi di media terrona capito ragazzi? Sì